Eccomi appena immersa dalla lettura di Montagne di una vita, Walter Bonatti. Un libro sicuramente carico di nostalgia per quelli della mia generazione che ricordano ancora Bonatti. Io ero troppo piccola per ricordare le sue scalate, ma ricordo molto bene i suoi reportage, la sua epoca. Allora, Bonatti ha avuto una carriera alpinistica durata una quindicina di anni, in cui ha fatto molte scalate, tutte rigorosamente in stile alpino, molte scalate che sono passate alla storia, tra cui la prima invernale del Cervino, Parete Nord in solitaria, e poi ha lasciato e si è messo a viaggiare. In questo libro lui descrive molte di queste ascensioni e soprattutto è molto interessante seguire il suo percorso interiore. quello che lo ha spinto poi a lasciare è a continuare con un altro tipo di avventura, che secondo me è una cosa molto bella, perché la vita è fatta di tante fasi. Lui era un duro e puro, questo lo ha, non voglio dire né costretto né gli ha fatto decidere, ma lo ha portato in molti casi all'isolamento, al voler fare da solo, perché così era meglio per lui. E anche di questo lui parla. Doveva essere un personaggio molto ricco nell'amicizia, una persona che averla come amica penso che fosse veramente capace di dare tutto. Un libro, questo secondo me, per chi conosce bene il massiccio del Monte Bianco e può riconoscere le sue vie, le sue imprese, può ritrovarsi nei luoghi delle sue imprese, è un libro secondo me anche molto per i ragazzi, perché insegna il rigore, l'autodisciplina, e soprattutto questo scendere dentro di sé, questo analizzare molto profondamente le proprie emozioni. Lui è oltre a tutto uno scrittore formidabile, cioè la sua prosa è bellissima, sembra una parte della montagna, non so come dire, non potrebbe forse scrivere di mare, è fatto per scrivere quello, è meraviglioso e quando parla di sé stesso è quasi commovente. Una lettura quindi per appassionati e per giovani. Ciao!